Alla fine non si era mai allontanato dalla zona ed ora il ritrovamento del corpo di Daniele Taddei aumenta agli impianti di ricerche che non sono mai arrivati al dunque. Sono stati alcuni cacciatori ad individuare nei pressi di un canneto la carcassa della Nissan di proprietà di Daniele Taddei, il giovane scomparso nel nulla nel 2014. In un primo momento sembrava trattarsi dei rottami di una vecchia automobile, ma all'arrivo dei vigili del fuoco la macrava scoperta al suo interno il cadavere oramai scheletrico di Daniele Taddei, il giovane di Tortoretto di cui si erano completamente perse le tracce il primo di agosto del 2014, quindi più di quattro anni fa. Sono stati i cani del cacciatore ad individuare la traccia e condurre i soccorritori in un punto particolarmente impervio del canneto, in località Terra Bianca. Una volta individuata l'auto si è risalito al proprietario Daniele Taddei, appunto, il giovane all'epoca ha cercato il lungo e il largo. L'auto in una Nissan Micra si trovava all'interno di un fitto canneto posto alla base della scarpata sottostante la strada. Daniele era scomparso da casa la mattina del primo agosto e allora si sospettò una fuga volontaria, forse una delusione d'amore senza escludere nemmeno un gesto estremo. Ma le ricerche non diedero alcun frutto. Il territorio circostante alla zona era stato battuto palmo a palmo, ad esclusione dei fondali di laghe e porti, e oltre al suo corpo non si trovava, appunto, nemmeno la sua micra. Le indagini portarono al sospetto che la sua vita poteva essere finita drammaticamente, perché era uscito con appena 20 euro in tasca e il suo conto corrente era fermo, così come il cellulare di Daniele alcune ore dopo la scomparsa aveva continuato a squillare, prima di spegnersi definitivamente. La cella agganciata coprì un raggio di alcuni chilometri fra Santomero, Mosciano Sant'Angelo e Bellante. Era in zona dunque vista la scoperta di ieri. Adesso bisognerà chiarire, chissà se sarà possibile, se la macchina è finita lì per un incidente o per qualche altro motivo, come ad esempio un malore improvviso del giovane santomerese.